Ben ritrovati da Simone Nardone, un appuntamento con il giornale radio locale. Nascono le tartarughe marine a fondi, entusiasmo e gioia sulla spiaggia di Capratica, dove questa notte sono nate 21 tartarughine, dopo la rottura delle uova e la formazione del classico cono sulla spiaggia che preannuncia il lieto evento. Alle 2 di questa notte erano 20 le piccole tartarughe che con tutte le proprie forze stavano attraversando la spiaggia per assalpare verso le acque del Mediterraneo. Quando tutto sembrava finito, alle 7 del mattino è spuntata anche la 21esima tartarughina. Tragedia a ventotene dove nella mattinata di sabato, nello specchio d'acqua nei pressi del porto romano, ha perso la vita un giovane di 20 anni originario di Roma. Pare che questo si fosse immerso in mare con la maschera, tuffandosi direttamente dalla barca senza poi riuscire a risalire. Il giovane, probabilmente colto da un malore, è finito sul fondale senza riuscire a riemergere, forse avendo anche perso conoscenza dopo l'immersione. A lanciare l'allarme gli amici che si trovavano con lui, gli uomini del 118 intervenuti hanno provato a rianimarlo senza successo, per quasi un'ora. La morte tragica della piccola bambina italiana, figlia di due avvocati di Napoli, venuta a mancare ad appena sette anni schiacciata da una statua in un albergo in Germania, ha colpito indirettamente anche l'isola di Ponza. La famiglia, infatti, era solita passare le proprie vacanze sull'isola Pontina e la stessa bambina era molto conosciuta tra le attività commerciali isolane. Il sindaco, si legge in una nota resa pubblica dopo quanto accaduto a Monaco, ha spiegato che tutta l'amministrazione si stringe al dolore della famiglia Trematerra e Poggi per la scomparsa tragica della piccola Lavinia. Furti in serie a fondi alle auto in sosta nel parcheggio di un noto ristorante per ricevimenti in zona Salto. Nella giornata di sabato, secondo le ricostruzioni, nel bel mezzo di un banchetto ignoti si sarebbero intrufolati nel parcheggio alleggerendo quattro automobili dei computer di bordo satellitari. Questa tipologia di furti sta diventando molto diffusa non solo in zona, sul posto sono intervenuti i carabinieri di fondi che hanno registrato, oltre ai furti, anche i notevoli danni alle automobili. Paura a Castelforte per un incendio in uno stabile registrato all'alba di sabato al piano terra di una struttura di via Monte Pecoriello. Le fiamme hanno avvolto una stanza di circa 12 metri al piano terra che funzionava da deposito. Andato in fumo, diverso materiale che si trovava in quel luogo a coordinare le operazioni di spegnimento ai Vigili del Fuoco insieme alla Protezione Civile Gari 88 di Santi Cosme e Damiano. Sul posto anche i carabinieri che insieme ai Vigili del Fuoco hanno provveduto a cercare elementi utili a stabilire le cause della propagazione delle fiamme. Non sono state registrate persone coinvolte. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale Radio Locale.